perdendo tempo di dover immediatamente provare a chiamare qualche albergo perché adesso è il momento in cui noi chiamiamo degli esercizi commerciali o qualche albergo che ha, no Antonio non ti preoccupare perché si sentiva male e ho messo su PGM quindi ti dicevano ragazzi, informazione tecnica chiamiamo gli esercizi commerciali che hanno a che fare proprio con i nomi di canzoni bene, partiamo con il primo numerino, sentiamo che succede abbiamo un esercizio commerciale di nome Aria, come una vecchia canzone di Marcella, te la ricordi? eh come no, nell'aria scordata eh la chitarra pronto? pronto? sì? mi sente? sì, chi parla? ho chiamato Aria pronto? chiedo scusa, mi sente o no, nell'aria e niente, va bene, andiamo avanti prossimo numerino abbiamo dei problemi oggi anche con il segnale purtroppo aspettiamo se riusciamo a beccare ancora qualcuno abbiamo, abbiamo capelli ed è un esercizio commerciale non è un parrucchiere, assolutamente no pronto? e chiedo scusa, buonasera ho chiamato capelli di chi è? oh, chiedo scusa non ho capito se ho chiamato capelli sì? sì? ah, mi perdoni volevo sapere di cosa vi occupate per quale motivo, scusi? in quanto io sto facendo una rubrica personale no, le dico la verità sai qual è il fatto? è che io senza capelli sono una pagina senza fumetti ecco ha capito? e quindi vorrei sapere se ho chiamato il giusto esercizio commerciale e vivo sempre insieme ai miei capelli ma senti che bel petto io la ringrazio e vivo insieme ai miei capelli carina, sì, complimenti anche lei deve essere molto carina sarà che fa parte del gruppo capelli? ecco io la ringrazio le dico arrivederla a lei che è capelli arrivederci stia bene grazie abbiamo chiamato anche i capelli parà, parà ciao ciao simpatica capelli eh bene almeno è un esercizio che non abbiamo mai chiamato andiamo a chiamarle subito un altro attenzione attenzione perché chiamiamo un centro benessere che si chiama Penso a te andiamo sui romantico adesso eh Penso a te, buongiorno, sono Consuelio buonasera e penso a te sì, buonasera mi perdoni e penso a te io volevo informazioni e penso a te è ancora lì? richiamala, 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 richiamala perché questa la devo giocare bene eh vediamo, attenzione aveva una bella voce sinceramente eh sì, vediamo vediamo proprio così cambiamo la voce magari eh attenzione eh ragazzi speriamo che ci risponda ancora mi sa di no al momento non siamo raggiungibili potete lasciare un messaggio dopo segnalo acustico io la lascio, io la lascio buonasera io penso a te c'è Consuelo c'è Consuelo penso a te devo epilarmi il culo penso a te e Consuelo penso a te faccia faccia cac no no faccia cac dai zitto andiamo avanti andiamo avanti sento una mazza però andiamo avanti ragazzi abbiamo dei problemi tecnici però andiamo avanti comunque lo show must be good eh Marina abbigliamento Marina vediamo se ci risponde Marina Marina non ci vuole rispondere magari sta servendo qualche cliente eh sì era carina però come è la situazione Marina 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 ok passiamo insomma ad un parrucchiere che si chiama Mendi a Conciutture Mendi a Conciutture buonasera sono Deborah buonasera Deborah lei mi dica come sta ha già messo giù non dica così la prego richiamiamo pronto mi scusi è Deborah pronto scusi buonasera a lei cambiate i telefoni in questo cacchio di esercizio richiamiamoli o chiamiamo qualcun altro dimmi che facciamo attenzione dobbiamo arrivare al ritornello eh niente pronto hai riattaccato hanno i telefoni che non funzionano bene chiamiamo un altro Mendi vediamo abbiamo ancora un Mendi niente vabbè tutto in diretta ragazzi quindi può capitare che qualche esercizio non ci risponda attenzione tutto in diretta ci proviamo prima di chiudere sentiamo abbiamo ancora qualche minutino a nostra disposizione eh questa è una cartolleria che si chiama Giallo cartolleria a quest'ora dovrebbe essere aperta niente non ci vogliono proprio rispondere eh eh vabbè ragazzi insomma non può andare sempre bene chiudiamo in bellezza dai Ivano proviamoci tutto in diretta vediamo l'ultimissimo stiamo chiamando Monkey va bene va bene niente niente io vorrei provare guarda visto che dobbiamo chiudere comunque che non siamo riusciti a beccare nessuno riproviamo l'ultima volta a chiamare le acconciature Mendi tanto erano i loro telefoni che non funzionavano bene vediamo se siamo più fortunati eh anche perché era una bella canzone vediamo vediamo che non siamo mai riusciti a cantare proviamoci attenzione Mendi ha conciature buonasera ah chiedo scusa è Mendi sì ho chiamato non rispondeva nessuno ci sono problemi al telefono Mendi va bene chiudiamola qui oggi è stata nera i tappi tornano tra poco i tappi su Radio Kis Kis Napoli i tappi tornano 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 i tappi tornano